Crollano lastre di marme dal palazzo dell'Erap Delitto pansieri domani Alessandrini sarà interrogato a Pesaro Rifiuti Pesaro città sempre più plastic free Mercato delle erbe senza casa tramonta l'idea di Largo Mamiani Gruppo alberghiero di Pesaro offre 85 posti di lavoro Ben ritrovati su Rossini TV Benvenuti al nostro telegiornale in questa prima edizione Che poi vi ricordo vedrete in replica anche alle 20.40 Oggi è giovedì 16 marzo e apriamo il nostro telegiornale Con le immagini che abbiamo girato proprio oggi Ai margini del centro storico di Pesaro Dove si è registrato un cedimento di lastre di marmo Dal palazzo dell'Erap Ente che come sapete gestisce le case popolari In provincia di Pesaro Urbino Palazzo all'angolo fra Viale Bramanti e Via Bixio Dove sono crollati al suolo diversi calcinacci E per pura casualità non hanno colpito passanti sui marciapiedi Normalmente piuttosto affollati Sono intervenuti polizia locale e vigili del fuoco Che hanno rimosso i materiali caduti E altre lastre che risultavano pericolanti Verranno effettuati accertamenti sull'edificio Ma nel frattempo è stato interdetto il passaggio sui marciapiedi E su parte della ciclabile di Via Bramante Ed ora cambiamo argomento È fissato per domani nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro L'interrogatorio di garanzia di Michael Alessandrini Arrestato per l'omicidio di Pierpaolo Panzieri Il 22 marzo in Romania Mentre si stava dando alla fuga Dopo aver accoltellato a morte l'amico Nella sua casa di Via Gavelli Oggi è avvenuta l'estradizione con l'arrivo di Alessandrini All'aeroporto romano di Fiumicino E il suo trasferimento nel penitenziario di Pesaro Sabato, vi ricordiamo, alle ore 11 Nel Duomo di Pesaro si terranno i funerali di Pierpaolo Panzieri Nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro È stato recluso oggi un ladro seriale di biciclette Che metteva a segno i suoi colpi Nella città di Fano Qui ha rubato decine di biciclette Che quasi sistematicamente rivendeva online Qualche cittadino derubato Ha però notato le sue bici Ed è scattata la denuncia ai carabinieri Che hanno appurato la responsabilità del ladro Anche gli ifanese E diversi furti In settimana sono scattati gli arresti domiciliari Dai quali il soggetto in questione È però evaso dopo poche ore I carabinieri l'hanno riacciuffato Ed è stata disposta La reclusione in carcere Lasciamo per un attimo la cronaca E parliamo di Pesaro Città sempre più plastic free Lo scorso weekend a Bologna Infatti la città e Fermo Sono state le uniche due città marchigiane Premiate a livello nazionale Per iniziative legate alla riduzione della plastica Iniziative che si potenzieranno in questo 2023 Un protocollo di intesa c'era già nel 2021 Però quest'anno si è colta l'occasione di rinnovarlo Perché avremo ritirato questo premio L'11 marzo a Bologna Ma anche perché effettivamente Questo ci ha permesso con il nostro dossier Di mettere in luce tante attività svolte dal Comune In collaborazione con tante associazioni E alcune attività molto virtuose Come questo protocollo di intesa E questa convenzione stipulata dal Comune di Pesaro Con la Regione Marche L'autorità portuale E la Capitaneria di Porto Per l'istituzione di questa ecoisola Ecco, questa è un'attività virtuosa molto importante E poi abbiamo voluto presentare questa mattina Tutta una serie di attività Ma sono solamente una parte Di quelle che vogliamo mettere in atto Fino alla fine dell'anno Plastic Free è un'associazione Una onlus nata nel 2019 In questi pochi anni sono stati raccolti 3 milioni di chili di plastica È un'associazione che si dà l'obiettivo Di coinvolgere i cittadini E poi anche la politica All'abolizione della plastica Specialmente delle monouso Noi abbiamo fatto diversi eventi Anche a Pesaro, anche in passato L'obiettivo è quello di portare le scuole A capire dell'abbandonare l'uso della plastica Questo è l'obiettivo primario Sabato scorso a Bologna Pesaro Ha ricevuto il premio Plastic Free Due tartarughe Perché il simbolo della tartaruga Uno, due, tre livelli Di virtuosità del comune Pesaro si sta comportando abbastanza bene Ci stiamo preparando per un evento Provinciale O appuntamento col Presidente della provincia Perché vorremmo coinvolgere Tutti i comuni della provincia di Pesorubino Per un evento Plastic Free Da organizzare in occasione Del capitale della cultura Pesaro Quindi vedremo cosa succederà Nei giorni a venire Ci saranno una serie di eventi Che inizieranno anche dal centro storico Proprio per il decoro del centro storico Coinvolgeremo le attività commerciali Le associazioni di categoria Ma soprattutto i bambini Perché è fondamentale sensibilizzare L'argomento E oltre a questo abbiamo pensato Proprio sempre per il discorso Del decoro del centro storico Ci sarà un'iniziativa Con i commercianti Sperando che aderiscono Non saranno quindi Un impegno incredibile Però in questo modo Avrebbero anche nelle vie Dove hanno le loro attività Ci sarebbe più pulizia E sistemazione Le scuole sono sempre state Sono in prima fila Per il contrasto Contro l'inquinamento E ancora di più Sulla tematica delle plastiche A partire dall'alimentazione Dal momento del pasto Le scuole vivono un momento Plastic free In quest'anno scolastico Siamo intervenuti Donando più di mille borracce A tutti i bambini Che sono iscritti In prima elementare Alla scuola primaria Pensando che potesse essere utile E anche di suggestione Nell'utilizzo corretto Dell'acqua di rete E in ogni scuola C'è un punto di erogazione Per l'acqua pulita Sana Controllata da marchi multiservizi Da cui i bambini Maestre e personale Possono attingere E questo avviene anche Nel momento dei pasti Pasti che sono a chilometro zero Anche questi sostenibili E che vengono sempre proceduti Da un momento di riflessione Su quello che si mangia E perché questo cibo È all'interno del nostro piatto Noi abbiamo emesso Un'ordinanza nel 2019 Anche per il non uso Di cannucce Di bicchieri in plastica Piatti in plastica In questo settore Però Dobbiamo implementare Anche questo percorso Cominciando magari Con un invito In questo senso Però Con anche attività ulteriore Appunto Di virtuosismo Da parte dell'amministrazione Adottando anche Dei provvedimenti specifici Come fanno In altri comuni Che hanno avuto Appunto Il massimo riconoscimento Da plastic free Dal bilancio Della regione Marche Arrivano altri fondi Per la provincia Di Pesaro e Urbino Canalizzati Dalle indicazioni Del consigliere regionale Nicola Bagliocchi Che gli ha illustrati Proprio questa mattina I nostri microfoni Dalla regione Marche Arrivano stanziamenti Di 80 mila euro complessivi Da riversare Sulla provincia Di Pesaro e Urbino Stanziamenti canalizzati Dall consigliere regionale Bagliocchi Spieghiamo i motivi E le destinazioni Di questi stanziamenti Sì I motivi Sono semplicemente Una vicinanza Un'attenzione Alla mia città Alla provincia Dove sono stato eletto E che rappresento E che rappresento In regione Ed è un piccolo contributo Su situazioni Che magari I bilanci comunali O altri bilanci Lo riescono a coprire Quindi ho ben pensato Di riuscire a A dare un contributo Importante Su 4-5 situazioni Che ritenevo importanti Uno L'acquisto di mezzi Per la protezione civile È una strada Nel comune Nel comune di Pesaro A Novilara La parrocchia Novilara Per permettere l'accesso Al campo sportivo Del Novilara Calcio Un problema ormai Annoso da anni Che impediva anche L'accesso ai mezzi di soccorso Quindi una cosa importante 20.000 euro Al campo parrocchiale Della parrocchia Di Villa Circolini Come dicevo 15.000 euro La protezione civile 10.000 euro A un'associazione sportiva La Lupo Per un progetto di Baskin Quindi di inclusione sociale Sulla disabilità Quindi tutti i piccoli Interventi Che però dimostrano Un interesse Da parte della Regione Marche Perché chiaramente I soldi sono della Regione Marche Non sono i miei Però destinati Alla città Lavori di riqualificazione Per circa tre anni Sembrava cosa fatta Il trasferimento In alcuni locali Inutilizzati Su Largo Mamiani Ma la possibilità Poi è tramontata Per ragioni Che ci vengono Illustrati Dall'assessore Al Comune di Pesaro Francesca Francoellucci Niente più Largo Mamiani Il mercato dell'erbe Costretto a traslocare Per almeno tre anni Dal chiostro Del San Domenico Che da ottobre Sarà sottoposta A un restyling Da quasi 7 milioni di euro Deve cercare Altre soluzioni Rispetto a quella Che era la prima scelta Ovvero I locali Dell'ex portello In forme servizi Alle spalle del municipio Una delle soluzioni Che erano state Prospettate dal Comune E la più gradita Dagli ambulanti Del mercato dell'erbe Che si sarebbero spostati Al coperto Di appena una cinquantina Di metri Dalla loro sede storica Ambulanti Che si sono scontrati Con i costi d'affitto Troppo elevati Dei locali Di Largo Mamiani Di proprietà Della BNL Ovvero 40 mila euro D'affitto all'anno Scesi poi a 20 mila Dopo trattativa Col Comune Ai quali si aggiungono Tutta una serie Di costi giudicati Non sostenibili Dai commercianti Noi Come amministrazione Comunale Abbiamo dato Non una soluzione Ma ne abbiamo date Quattro Di soluzione Adesso la prima Che loro erano partiti Che era piaciuta tanto Invece l'hanno scartata Per una serie Di loro Problematiche Anche dal fatto Di creare il consorzio Di conseguenza Abbiamo dato Due aree pubbliche Che possono decidere E quindi rimanere All'aperto Come in fondo Loro nascono Come ambulanti Noi in tutto questo Abbiamo lavorato Per dargli Continuità lavorativa Per noi fondamentale Che il mercatino Delle erbe Ci sia E come amministrazione Non ci siamo tirati indietro Anzi Nell'aiutarli Anche nello spostamento Per il discorso Del pagamento Della TOSAP Adesso Aspettiamo una risposta La prossima settimana Avremo un incontro Mi dispiace molto Che ci siano state Delle lamentere Del fatto Che questi commercianti Potevano spostarsi In questo edificio Avevano una scontistica Del 50% Da quello che chiedevano Ed è chiaro Che noi come comune Avremmo aiutato Ma prima ancora Di fare la riunione successiva C'è stato detto di no Quindi abbiamo subito Scartato Palazzo Mamiani Non è un problema Noi comunque abbiamo dato Altre soluzioni E aspettiamo che Che ci diano delle risposte Sono sette attività Quindi io come assessore Alle attività economiche Mi sono sentita di lavorare Per dare continuità lavorativa Ma essere comunque Qualcosa di dignitoso Quindi abbiamo pensato anche Davanti alla caserma Dove già esistono Due chioschi Sia uno di un'edicola E un bar Di fronte a un ospedale Quindi c'è anche Il passaggio di auto E lasciavamo Dieci posti auto Dedicati proprio Al mercatino delle erbe Oltre a questo Adesso abbiamo trovato Anche in via Gavardini Nel cortile interno Quindi rimarrebbero Comunque in centro storico In un'area riparata Diciamo che come amministrazione comunale Come assessore Alle attività economiche Io mi sento di aver fatto Tutto quello che potevo fare E soprattutto dare dignità A questi lavoratori Che comunque dietro Hanno delle famiglie In tutto questo L'amministrazione L'ha subito recepito E anche il sindaco In giunta Si è raccomandato Di dare continuità Al mercatino delle erbe Sempre che le attività stesse Lo vogliono Ed ora una comunicazione Alla cittadinanza E ai cittadini di Pesaro Da parte del sindaco Matteo Ricci Che ha emesso oggi Un'ordinanza Che obbliga A rimuovere Imbarcazioni Relitti E materiali Presenti Nel tratto Di fiume Foglia Compreso Tra il ponte Di Soria E il ponte Brigata Ebraica Un'ordinanza Che si rivolge Ai proprietari Dei natanti Che stanno occupando Impropriamente L'area E che dovranno Liberare L'asta fluviale Entro il 25 marzo Per un provvedimento Finalizzato Ai lavori Di manutenzione Straordinaria Previsti Sull'argine Come misura preventiva Ai rischi Di esondazione Ed ora Vi segnaliamo Un'importante Opportunità Di lavoro Si cercano Infatti 85 nuovi Dipendenti Per le mansioni Alberghiere Di tre hotel Che sono presenti A Pesaro Tra i più importanti 85 figure Che verranno Selezionate Proprio questa domenica In una grande giornata Di reclutamento Vediamo Non è ancora primavera Ma si iniziano Già a respirare I primi caldi E proprio in vista Della prossima Stagione estiva Che il gruppo Lindbergh Hotels e Resorts Proprietario a Pesaro Delle strutture Excelsior Nautilus E Cruiser Ha organizzato Per domenica 19 marzo Un Recruiting Day Dedicato alla selezione Di nuovo personale Il gruppo Ricerca 85 addetti Da inserire in sala Cucina Spa E ricevimento Ma anche figure Come direttori Di hotel e resort Da collocare In altre strutture Del gruppo Che gestisce In totale Nove alberghi In tutta Italia Tra Sicilia Sardegna Emilia Romagna Umbria E le stesse Marche Dalle 10 Alle 18 Di domenica 19 marzo Proprio l'hotel Nautilus In Viale Trieste Aprirà le porte A tutti i possibili Candidati Che dovranno Presentarsi All'appuntamento Dotati di un curriculum Vite E di lettera Di presentazione La giornata Di colloqui Sarà l'insegna Della condivisione Di tutti quei valori Quali accoglienza Ospitalità Professionalità E dedizione all'ospite Che caratterizzano Il gruppo Lindbergh E che saranno Oggetto di ricerca Nei loro futuri collaboratori L'investimento Nella conoscenza E nella crescita Continua del personale Sono obiettivi Sui quali si fonda L'iniziativa Che cerca di rispondere Alle difficoltà Sempre maggiori Che riscontra Il settore A reperire Personale qualificato Vi segnaliamo Che sabato Alle ore 18.30 Rossini TV Sarà presenti All'Alexander Museum Palace Hotel di Pesaro Per la presentazione Del romanzo D'esordio Dello scrittore Pesarese Julian Sozio Il libro Si intitola La solitudine Del mare E si annunciano Già sold out Gli 80 posti Della sala Degli specchi Un libro Che sarà Accompagnato Da una campagna Di crowdfunding Che vi illustreremo Proprio In uno speciale D'approfondimento Che poi andrà in onda Mercoledì 22 marzo Alle ore 21.20 E prosegue La stagione teatrale Della piccola ribalta Giunta al suo Nono appuntamento Sabato 18 marzo Alle 21 E domenica 19 marzo Alle 17 Nella sede teatrale Di Via dell'Acquedotto Andrà in scena Voglio giustizia Commedia in due atti Di Gianluca Sposito Che ne cura anche la regia Insieme ad Antonella Gennari L'opera teatrale È stata finalista Del primo concorso nazionale Di drammaturgia Antonio Conti Nel 2019 In questi giorni Ci stiamo occupando Della grande scoperta Archeologica A Fano Con l'ipotetico Ritrovamento Della leggendaria Basilica di Vitruvio Eppure C'era già Chi Dallo scorso anno Aveva previsto Questa cosiddetta Scoperta Del secolo Vediamo chi Una scoperta sensazionale La basilica di Vitruvio È stata trovata a Fano Ma è la cosa più incredibile Che noi Del San Costanzo Show Già un anno fa L'avevamo scoperta Proprio sotto un condominio Un evento sensazionale Per frutesia Bisogna sgomberare Ma cosa fa? Sgomberiamo la zona Perché stiamo scavando Ma scavando cosa? Stiamo scavando O qui Rossini TV Nella zona di strada Sta scavando un po' dappertutto I reperti romani Avete trovato anche qua? No ancora no Lungobardi No di più Assi romabinonesi No del petrolio Com'è petrolio? Petrolio Avete trovato petrolio Quindi qui vengono Possi petroliferi Capito? Ma a Pesaro A Pesaro Possi petroliferi Gran petrolio Grande scoperta Ma la città della cultura Ha trovato il petrolio Città dell'apertura Adesso sarà anche Dell'energia Dell'energia C'è la bicicletta C'è tutta una serie Aspetti che devo dire una cosa Perché il San Costanzo Show Tra l'altro Queste due settimane Farà dei grandissimi eventi Da ridere Tutto questo weekend Tutto il prossimo weekend Le ridi di marzo Ma lo sappiamo Lo sappiamo Come lo sappiamo C'è lo spettacolo teatrale Somari di battaglia Lo sappiamo Venerdì 17 Al Puliteama di Fano E il 24 All'Oretto di Pesaro Marzo Ma lo sapeva che sabato Noi Alle 18 Sabato al Puliteama La proiezione del film Non aprite quella asporta Segue il cortometraggio La scoperta del secolo Per l'evento speciale Domenica invece Alle 18.45 Non aprite quella asporta Lo sanno che lo sappiamo Lo sanno tutti Ma è inutile Che faccia il servizio Andate a vedere Il San Costanzo Show Adesso però sgomberiamo Sgomberate Sgomberate Se sai la vuoi Avanti Avanti Forza Non vedo l'ora Di andare in scena Con i cavalli di battaglia Del San Costanzo Show Ma non è cavalli È il show mare di battaglia Le più grandi risate Della storia Del San Costanzo Show Ragazzi Ma non fa ridere Il titolo È terribile No È un titolo È un emensiale No È bruttissimo È un colore Sgomberi di battaglia E chiudiamo quest'edizione Del nostro telegiornale Parlando di sport In particolare Dell'Ital Service Calcio a 5 Pesaro Che domani sera Torna al Palafiera Per la cruciale sfida Con la Meta Catania L'ultima sfida Prima delle Final Four Di Coppa Italia Torna sul campo amico Del Palafiera Little Service Pesaro Per completare Un Tour de Force Da tre gare In appena sei giorni Domani Venerdì 17 marzo Alle 20.30 C'è la sfida interna Con la Meta Catania Che precede Pesaro Di tre punti in classifica Little Service Arriva al match Dopo un punto Rimediato in due gare a mare Entrambe compromesse Nel finale Prima La sconfitta 4-3 Ciampino Poi il pareggio Di martedì Per 2-2 A nocera inferiore Una gara Che ha visto Il Real San Giuseppe Passare in vantaggio Per poi vedere I pesaresi Reagire alla grande Con i gol di João Miguel E Chitola Valsi il 2-1 Prima di subire Il pareggio nel finale Little Service Ora un punto Fuori dai play-out Ma col fiato Sul collo Di Pomezia Petrarca Con Catania Si confida Nella spinta Del pubblico peserese Per ritrovare La vittoria In quella Che sarà L'ultima gara Prima delle Final Four Di Coppa Italia Di Napoli Proprio nella giornata Di venerdì Ci saranno Anche i sorteggi Delle accoppiamenti Delle semifinali Dal calcio 5 Al basket Little Service Loreto Basket Capo classifica Della Serie C Silver E attesa domenica Dal big match In casa Dell'Urbania Immediata Inseguitrice Loreto Ci arriva Dopo la vittoria Ottenuta 173 Contro il Fanalino Di Coda Spoleto E allora davvero In bocca al lupo All'Ital Service Calcio a 5 Pesaro Seguiteci Chiaramente Per tutti gli aggiornamenti E risultati Delle partite Intanto Seguiteci Anche questa sera Perché in prima serata Come tutti i giovedì Si parla di sport Su Rossini TV E questa sera Con insieme a canestro Avremo ospiti Alle 21.20 Leonardo Totè Che è il pivot Della Carpegna Prosciutto Basket Luigi Illuminati Giornalista E grande appassionato D'esperto Del basket Tutti i coordinati Dal nostro Marco Cadeddu Che potrete commentare In diretta Attraverso questo numero Di Whatsapp Oppure commentando La nostra diretta Per avere biglietti gratis Per la partita Di sabato E poi domani Il nostro Daniele Vi aspetta La rassegna stampa Il solito appuntamento Alle 7.20 Mi raccomando Puntuali In diretta Sul canale 80 E sulla nostra pagina Facebook E vi ricordiamo Sempre di scaricare La nostra applicazione Soprattutto adesso Che si avvicina L'estate Insomma Nei prossimi mesi In cui andrete in vacanza Portate sempre con voi Rossini TV Molto semplice E' gratuito Potrete vedere Da qualsiasi parte del mondo I nostri programmi In diretta E siamo arrivati Alla fine Del nostro telegiornale E come sempre Vi ringraziamo Per essere stati In nostra compagnia Vi ricordiamo Il numero Per le vostre segnalazioni Adesso vediamo Come sarà Il tempo Il meteo Per i prossimi giorni Vi auguro intanto Buona serata